Non frequentava più l'Ateneo Salernitano dal 2012, anche se risulta ancora iscritta alla facoltà di medicina. Il campus di Fisciano fu nestato da una nuova tragedia con il suicidio di una giovane di 30 anni che ha deciso di farla finita lanciandosi dall'ultimo piano del parcheggio dell'università. Un volo di circa 15 metri che non le ha lasciato scampo, inutili i soccorsi. Dal 2017 ad oggi è il quarto studente iscritto a Fisciano che decide di farla finita, sconvolta la comunità universitaria guidata dal rettore Vincenzo Loia. È una perdita tragica che abbiamo vissuto e tutta la nostra comunità esprime un profondo cordoglio per questa tragedia, vicinanza alla famiglia di Daniela, vicinanza a tutti i suoi amici, i colleghi che in questi anni l'hanno conosciuta. I giovani vengono qui non solo per imparare cosa fare nel loro futuro, vengono qua per vivere, ci consegnano una grandissima responsabilità. Osserveremo, per ricordare anche come segno di lutto, un minuto di silenzio all'inizio delle attività didattiche previste per lunedì e ovviamente lo faremo anche nel nostro Senato e Consiglio di Amministrazione. Proprio martedì prossimo, in Senato accademico, sarebbe stata approvata la proposta di istituire figure di supporto psicologico agli studenti in difficoltà. Tre nuove figure professionali con profilo veramente di supporto psicologico. Fondamentale per l'Università supportare anche questo tipo di aiuto.